Ragazzuoli, buonasera, sono Carmelo. Qui stasera con un'altra pillolina parleremo di VATSIM, del network VATSIM che ci consentirà di andare online con il nostro simulatore. Nello specifico parleremo di VATSIM, relativo però esclusivamente a X-Plane, nello specifico parliamo proprio del simulatore X-Plane. Per chi non è iscritto, ovviamente basterà andare nella home page di VATSIM e registrarsi come una comune registrazione. Alla fine otterremo una ID e una password che ci serviranno poi per andare online. Fatto questo potremo scaricare il software da questo menu. Allora, il software ce ne sono diversi, ovviamente. A noi quello che interessa per X-Plane è X-Squadbox. È solo questo, perché gli altri, questi qua, tipo VPILOT che è poi il più recente, Squabbox, è per chi usa Preparo o FSX. Loro, per chi usa questi simulatori c'è più scelta. Abbiamo la possibilità di avere tre software. Per chi invece usa X-Plane, l'unico software disponibile al momento è X-Squadbox. Quindi basterà andare sulla home page di Squabbox e troviamo appunto da scaricare la versione che attualmente è la 1.3.3 di 14 MB. Proviamo a scaricarla. Ci troveremo alla fine con un file chiamato XSB. Basterà scompattarlo e come tutti i plugin di X-Plane, alla fine noi avremo una cartella che verrà semplicemente inserita nella cartella dei plugin di X-Plane. Quindi andiamo a prendere la nostra cartella, al solito X-Plane, resource plugin. Prendiamo il nostro Squabbox e lo trasciniamo all'interno, insieme agli altri. Fatto ciò, possiamo avviare il simulatore. Ora io sono qua già pronto con il mio cessionino in aeroporto. X-Plane ha i menu qui in alto a sinistra. Nei menu plugin troviamo a questo punto il nostro Squabbox. Allora, a differenza per esempio di Prepare o di FSX o comunque di TeamSpeak, che comunque sono dei software esterni, Squabbox è integrato direttamente in X-Plane. Quindi va gestito esclusivamente dal menu interno di X-Plane. Quindi la connessione e tutto il resto. Eccolo qua, infatti, il menu connect lo troviamo già pronto, già direttamente qui. Basterà cliccare, inserire i nostri dati, quindi il cosign, il nome, mettere un server, ce ne sono alcuni qua da scegliere. La porta dovrebbe darvele in automatico, l'id e la password. Troveremo sempre in automatico il modello di aereo. In questo caso abbiamo il cessionino, lui ci dà già C172. La compagnia qui ce ne sono tante. A noi basta scrivere SIC e in automatico ci farà entrare come Air Sicilia. La livrea possiamo lasciare quella generica. Clicchiamo direttamente sul tasto connect e Squabbox ci proietterà direttamente dentro il server. Dopo una serie di scritture noi saremo online. Sempre dal menu di Squabbox potremmo a questo punto mandare il piano di volo tramite questa voce, send flight plan, una maschera abbastanza comune dove troviamo appunto il tipo di volo, il tipo di aereo, l'equipaggiamento, aeroporto di partenza, destinazione, alternato, eccetera, cruise. Qui abbiamo il campo dove inserire la nostra rotta e i remarks dove inserire i nostri commenti. Cliccando sul tasto send il piano di volo verrà mandato nel server. Ora io mi disconnetto subito per evitare interferenze. Il menu più importante di Squabbox lo troviamo nelle preferenze. Eccolo qui. Cliccando sulla preferenza troviamo una serie di campi che ci torneranno utili per la nostra configurazione. Cominciando dai primi due che sostanzialmente riguardano il push to talk. Ora XSquabbox ci dà la possibilità di settare un tasto per il push to talk, uno per la tastiera volendo, e uno anche per il joystick, in modo da avere eventualmente tutte e due le possibilità. Ora io ho messo qui spazio, ho segnato spazio per la tastiera, e un tasto sul joystick, voi potete fare come credete. Quindi basterà semplicemente cliccare su assign e digitare il tasto che ci interessa. Io avevo messo prima space. Show mic open icon. Cosa ci dice? Ci dice, una volta assegnati i tasti, sostanzialmente io mi accorgo, quando attivo il microfono, mi accorgo che compare in basso a sinistra qui un'icona rossa. Ecco, questo è un piccolo reminder che ci dice che in questo momento il microfono è aperto. ci serve appunto per visualizzare un'icona che potete mettere in basso a sinistra, in basso a destra, oppure in alto. Eccola qui. Quando appare in questo momento il microfono è aperto e possiamo collocare col controllore. Troviamo poi qui altri due campi, quindi Enter Text Key. Enter Text Key sostanzialmente sceglieremo noi il tasto col quale opereremo in modalità testo con il controllore. Quindi io ho scelto invio, quindi premendo invio posso scrivere qui tutte le comunicazioni che dovrò dare al controllore qualora volessimo operare solo per iscritto. Col tasto ESC faccio un abort text qualora ci sia qualcosa di sbagliato. Eccolo qua, ed è tutto settato nelle preferenze. Quindi ho scelto invio e ho scelto escape per tutte e due le funzioni. E toggle text key invece non è altro che sostanzialmente un tasto con il quale io faccio apparire, sempre con la finestra semitrasparente, faccio apparire o sparire lo storico dei messaggi. Quindi se mi sono arrivati due, tre, quattro messaggi e non ricordo cosa c'era scritto, non ricordo le indicazioni, basta che assegno un tasto e lui mi dà lo storico dei messaggi qualora servisse. Andando qui, ecco io ho messo questo tasto qui, voi ovviamente potete assegnare quello che volete. Questo storico si può scorrere poi settando gli opportuni tasti qui, verso l'alto, verso il basso, si può addirittura andare all'inizio dei messaggi o alla fine. Reply to last PM invece è un tasto che possiamo assegnare per scrivere direttamente in privato al controllore. Quindi noi col tasto home, che io ho settato il tasto home, ora non compare perché comunque non ho alcuna conversazione, ma sostanzialmente serve per mandare dei messaggi privati al controllore, per magari dire alcune cose o far conoscere qualcosa che magari non si vuole scrivere direttamente sulla Unicom. Toggle with online, un altro tasto molto interessante, questo tasto, eccolo qui, ci fa comparire una piccola finestrella sempre semitrasparente, che possiamo spostare dove vogliamo. Questa finestrella sostanzialmente serve a far vedere quali controllori al momento sono online nella nostra zona. Quindi se c'è un controllore che si connette, più o relativamente vicino a noi, lo vedremo qui. Quindi è una sorta di reminder molto importante, io lo tengo sempre aperto magari in un angolo, così se magari un controllore si connette, noi abbiamo la possibilità di vedere appunto il nome, il tipo di controllore e anche la frequenza che usa, in modo tale da poterci connettere. Possiamo aprirle e possiamo anche chiuderla questa finestrella. Sempre nelle preferenze, poi avremo qui una serie di opzioni, per esempio nello storico del testo possiamo decidere quante righe fare vedere, per esempio. Possiamo scegliere l'ampiezza, il tempo, questa finestra deve stare aperta. Qui addirittura c'è un'altra opzione, Check Weather Avery, e questo per chi usa per esempio il meteo di Batsim, noi qui praticamente diciamo ogni quanto vogliamo che lui scarichi il meteo. Ora io non lo uso, quindi ho messo 00 minuti, però per chi vuole usare il meteo di Batsim, può inserire 20-30 minuti e lui aggiorna il download del meteo. Questi sono parametri che io comunque non ho mai toccato, danno la visibilità massima e questo per esempio ci dice a quale distanza noi vedremo gli aeroplani, diciamo nella loro forma completa, 20 miglia. E questo qui invece ci dà il numero di aeroplani che insomma vedremo nella loro interezza, in questo caso 10. Qui c'è un Icao di default, io uso spesso il 738, quindi lascio 738. Quest'ultimo campo invece riguarda la risoluzione degli altri aerei che vediamo connessi, si può risparmiare memoria mettendola low, minimal, oppure si può lasciare extreme se si vuole se si vuole che l'altro aeroplano si veda in modo dettagliato. Sempre nel menu di Squadbox possiamo anche, perché essendo anche un plugin integrato, anche da qui possiamo settare l'audio, l'audio va con l'apposito menu. Nell'audio setting sceglieremo l'input, quindi possiamo, per chi ha più sistemi di input, se avete un microfono o un altro sistema, possiamo settarlo qui, possiamo dire alla Squadbox cosa vogliamo utilizzare come microfono e per lo stesso motivo possiamo scegliere di utilizzare i nostri autoparlanti o le nostre cuffie per sentire il controllore. Quindi possiamo dirottare, insomma, le comunicazioni o nelle cuffie oppure in altre apparecchiature, insomma, altroparlanti, qualsiasi hardware noi abbiamo. Abbiamo due possibilità, COM1 e COM2, con i relativi volumi. Possiamo anche abilitare il setup del microfono e dei filtri audio. Quindi come vedete è tutto abbastanza semplice. Poi ci sono altri menu, diciamo, di minore importanza. Possiamo dare un update appunto al tempo e ci dà anche appunto la larghezza della chat bar, sono dei piccoli menu che ci servono per dare le rifiniture. Un'ultima cosa che mi preme dire è riguardo alle famose MTL, che qui vengono chiamate CSL. Sostanzialmente in XSquabox, ecco qua, nella cartella resource, cosa fa? Dentro la cartella resource c'è la cartella CSL. Praticamente noi qui andremo a scaricare sostanzialmente i modelli degli aerei che vedremo online. Quindi per fare in modo che un 737, diciamo, connesso online si veda proprio come un 737, c'è bisogno di inserire queste famose MTL, qui si chiamano CSL. Ora, io le ho scaricate per tempo, c'ho quella del DC3, c'ho quella dei JET, quindi dei più comuni, quindi Airbus 737, 738, eccetera. E anche i Turbo Props, quindi il Cessna, ma ce ne sono tante. Ora, a memoria mia, queste CSL, basta chiedere a Google per X-Plane, e lui subito ci reindirizza all'org di X-Plane. Ecco qui, ci porta lì, se riesce, eccolo qua. Questo è il file che potete scaricare, qualora dovete essere però registrati a sito X-Plane.org, che è il sito con tutte le risorse di X-Plane. C'è un file che contiene appunto tutti i modelli di aerei, con le relative rive-ray, in modo tale che quando ne incrociamo uno, lo vediamo nella sua interezza. Eccoli qua. Lo possiamo scaricare tranquillamente, e come spiega appunto le istruzioni, va estratto, o direttamente nella directory, oppure copiato da una parte e trasferito poi all'interno della CSL. Ce ne sono tanti, basta cercare, se avete bisogno di qualche modello diverso, che non sia questo, basta chiedere a Google, insomma lui ci reindirizzerà sul file da scaricare giusto. Mi sembra tutto per adesso. Comunque, io rimango sempre a vostra disposizione. Va bene così per stasera. Grazie a tutti ragazzi. Ciao a tutti. Ciao ciao. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.